ciao a tutti amici amiche di quinta dimensione letture bentrovati a tutti quanti benvenuti ai nuovi invito chi non l'avesse ancora fatto iscriversi a questo canale e attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche allora oggi un altro appuntamento delle nostre parole magiche che vi dirò appunto in base in relazione alla luna ma comunque le parole magiche non sono solo in relazione alla luna ma si possono usare tutti i giorni di qualsiasi mese di qualsiasi anno insomma in qualsiasi giorno adesso ci dedichiamo un po in questa serie che ho iniziato a fare con le lune ci dedichiamo alla luna crescente chi interessa può vedere nel mio canale anche gli altri che ho fatto in base alle altre fasi lunari per chi interessa quindi oggi ci dedichiamo appunto le parole sono di cristiano tenca famosissimo conosciuto insomma è molto conosciuto da tutte le parti perché comunque ha fatto diversi volumi di queste parole che sono tantissime per i più svariati usi che possiamo fare e applicarli nella nostra vita oggi appunto andiamo con le parole magiche per quanto riguarda la fase della luna crescente poi tirerò giù per te che ascolti uno dei miei oracoli divini un messaggio divino per te che deve arrivarti per sincronicità perfetta qui e ora proprio adesso che ascolti allora come sempre vi ricordo che ha bisogno di sapere di più della genesa e della pentasfera si guarda il video di presentazione in modo che così evitiamo di annoiare ripetendo sempre le stesse cose e le stesse parole sia nel video che nei commenti ragazzi perché se cose le cose le ho già dette quindi ve le cercate ve le trovate anche questa è crescita personale il cercare le informazioni perché già l'energia si mette in movimento verso la cosa che tu vuoi bene anche qui anche la preparazione importante per queste cose non si può delegare un altro in questo caso io ok quindi dovete comunque impegnarvi voi a cercare la parola la frase la formula come si fa da che parte si gira eccetera eccetera è già un lavoro questo ok è già un'energia che si espande e che migliora la tua intendo quindi le parole magiche come sapete lo ripeto brevemente vanno bene sia da sole quindi recitate da sole ripeto una volta solo dalle tre alle cinque volte al giorno in tre momenti diversi della giornata alcune persone anche una volta sola al giorno l'hanno fatte o probabilmente avevano un intento molto forte fede e convinzione insomma funziona anche una volta al giorno a detta di molti però diciamo la base che ha dato l'autore comunque di queste parole è tre volte al giorno in tre momenti diversi questo lo scegliete voi come fare chi non ha particolarmente tempo si scorda ma quel giorno comunque ha recitato con fede ok non è che nessuno lo punisce o a lui o lei non gli si avvera il desiderio quindi questo dipende molto dai casi dalle vostre energie del vostro karma da tante cose ragazzi da tantissime cose dipende il realizzarsi o meno di un qualcosa allora ricevo le parole anche solo parole senza niente invece mi dedico ora a quelli che hanno la genesa possono mettere ok sia ad altezza terra o ad altezza metà dove c'è la maggior concentrazione di energia sia nella genesa che nella pentasfera di mettere questo famoso post it quadrato scritto in stampatello in nero ok con la parola magica scritta sopra va bene guardatevi video di istruzioni ok non si può annoiare ogni video ripetendo le stesse cose il video di istruzioni sia dell'attivazione di come usare le parole magiche sia della genesa che della pentasfera ma anche delle altre fasi lunari che ho messo ma non solo perché le parole magiche le possiamo applicare a tante cose a tante proprio situazioni della nostra vita quindi vado vi metto in sovraimpressione la parola magica la frase magica di oggi dedicata alla luna crescente che vale ogni luna crescente ok ogni luna crescente quindi tutti i mesi quando c'è la fase di luna crescente la si può fare che altro anche nella descrizione c'è qualche altro diciamo qualche altra informazione per voi se volete leggete pure sotto nella descrizione allora partiamo ve la metto in sovraimpressione poi invece scritta proprio con gli accenti giusti tutto c'è anche in descrizione quindi sovraimpressione e descrizione allora per la fase di luna crescente abbiamo dedicata questa frase magica la seguente la potete ripetere tre o cinque volte in tre momenti diversi della giornata o anche una sola volta chi la mette nel foglietto dentro la genesa o dentro la pentasfera mi raccomando solo un'ora al giorno tutti i giorni finché c'è la luna crescente ma un'ora solo al giorno e ogni settimana questo foglietto andrebbe cestinato ok oppure bruciato e poi rifatto quindi questo vedete un po' voi come vi trovate meglio anche come siete messi in casa eccetera mi raccomando chi la scrive nel post it intendo è quindi sapete bene andatevi a vedere il video dei famosi diciamo magici usi stupendi che possono elevare la nostra energia che abbiamo tramite questi bellissimi oggetti della geometria sacra allora adesso tiriamo giù un messaggio per te che ascolti dai miei oracoli divini e vediamo che cos'è che ti deve arrivare per sincronicità perfetta proprio adesso visto che sei qui e che hai trovato questo video che messaggi ci sono da dare oggi a chi ascolta la carta 1 la carta 2 e la carta numero 3 scegli pure tra una di queste tre carte dei miei oracoli che ti dedico oggi e vediamo cos'è che devi sentire che devi sapere oggi se c'è un consiglio se c'è una dritta o se c'è proprio l'informazione vediamo quindi scegli carta 1 carta 2 carta 3 allora io parto immediatamente con la carta numero 1 chi ha scelto la carta numero 1 vediamo qui e ora cosa c'è per te tutto il supporto e l'amore divino sono con te 588 558 imminente grande cambiamento allora carta 1 tu che hai scelto questa carta devi sapere che sei molto protetto molto amato o amata i numeri per te possono essere anche divisibili i numeri delle mie oracole delle mie carte diciamo qualcuno me lo chiede anche in privato sono numeri di sincronicità ragazzi il significato lo dovete sapere voi oltre che comunque il numero del significato di questi numeri è riportato poi anche sotto cioè significa anche con il consiglio sotto ok perché se c'è scritto per esempio che ti arriva denaro ci saranno sicuramente sopra dei numeri associati al denaro però siccome i significati dei numeri sono molti sono moltissimi andate a vedere i molteplici significati di ogni numero qual è il vostro in quel momento ok quindi 5 8 55 88 questi più o meno sono i numeri per te quindi c'è tanto supporto qua tanto amore per te soprattutto dal divino ok quindi andiamo incontro a te che ascolti ad un imminente grande cambiamento ci dice qua quindi molto bene se stai sperando è anche metti mi raccomando la tua buona energia la tua più alta energia in queste anche recitazioni di frasi o decreti parole magiche quello che vuoi insomma codici sacri perché comunque c'è un supporto un amore divino a volte magari lo si percepisce a volte non lo si percepisce ma non significa che non c'è ok andiamo avanti con chi ha scelto la carta numero 2 il messaggio di oggi qual è per te fai esercizio fisico 19 19 esci all'aperto e respira allora qua ci dicono che probabilmente ci sono degli upgrade energetici come da questo periodo che è un lungo periodo devo dire invece di queste diciamo luci di questa quantità di energia 5d di quinta dimensione che si riesce a percepire molto più facilmente quando si è all'aperto quindi oltre all'esercizio fisico perché forse molti si sono un po' pesantiti o si trovano un po' a disagio con il proprio corpo o comunque c'è bisogno proprio di muoversi ok di ripristinare una circolazione di ripristinare una certa energia che siccome ti dice sì fa esercizio fisico però ti dice anche di uscire quindi comunque sia di uscire per conto tuo ma anche di andare all'aperto ma comunque anche di fare esercizio fisico proprio all'aperto perché sappiamo benissimo chi lavora con l'energia e lo sa quanta energia c'è in mezzo al verde quanto si riesce anche a prendere dai reami superiori dai regni superiori quando stai connesso con la natura quando fai un certo esercizio che noi in gergo chi lavora come me in queste cose lo chiama grounding cioè il radicamento a terra proprio una posizione particolare quindi sicuramente qua c'è bisogno per te di andare a prenderti un po' di energia gratuita della nostra bellissima gaia del nostro pianeta terra che ti dà questa energia se vai all'esterno attaccati per bene ad un tronco di albero bello grande è un bell'albero con insomma una certa diciamo quello più bello cerca l'albero più bello o che ti ispira di più mettiti di schiena all'albero attaccati all'albero perché ti dà una grandissima energia questo è per te il consiglio stesa 2 carta numero 2 terminiamo adesso con il consiglio per chi ha scelto la carta numero 3 vediamo per te oggi cosa c'è se stai ascoltando questo messaggio non è un caso 2 224 244 metti in pratica ciò che ti viene detto adesso chi ha scelto la carta 3 particolarmente oggi deve recitare questa frase di luna crescente perché la carta del metti in pratica quello che stai ascoltando adesso che ti viene detto adesso ci viene in concomitanza con un video particolare quindi probabilmente tu hai bisogno ok di liberare questa energia attraverso la recitazione guardatevi video anche dei miei decreti codici sacri perché spiego bene che potenza ha la voce e il recitare non è tanto non è che stiamo cantando una canzoncina qua il decretare ragazzi il decretare è una cosa molto seria la tua voce emana una vibrazione emana un'energia che puntualmente va a finire nell'universo ok quindi attenzione a quello che maniamo a quello che diciamo perciò se ti dice che se stai ascoltando questo messaggio non è un caso io lo sento molto riferito al fatto della recitazione proprio per te quindi sia delle parole magiche di oggi in relazione alla luna crescente ma anche ok alla recitazione proprio perché in questo canale ci sono delle cose da recitare vatti a vedere io ho fatto un lavoretto sulle playlist ho fatto tutta una bella divisione un bel lavoro su tutti i video ok ho diviso per argomento i video quindi vai a vedere la playlist che si chiama messaggi angeli decreti famiglia galattica universo ok vai a vedere quella playlist lì dove troverai tutti i lavori che tu puoi fare per te a breve metteremo anche la playlist meditazione appunto dove ci sarà la meditazione della del registro akashico è a breve la metterò quindi mi raccomando qua c'è da recitare qua c'è da dire perché qui non è un caso ti sta dicendo se stai ascoltando questo messaggio e metti anche in pratica quindi è come se ti dicesse proprio fallo sia per quanto riguarda la luna crescente ma proprio anche quello che ti ho detto io adesso cioè recitazione di qualcosa vai a vedere che cosa ti ispira è un po' come la cristalloterapia quando si sceglie una pietra no è la pietra bene o male che ti chiama non sei tu che scegli quindi è una sincronicità ok di energia tra te e la pietra qui è la stessa cosa diciamo è un po' lo stesso meccanismo ok vibratorio a livello sottile non si vede non si percepisce solo a livello sensoriale a livello nostro energetico quindi mi raccomando vedi che cos'è che ti richiama vai a vedere un po' di contenuti di questo canale a livello di crescita personale perché ci sono video anche diversi quindi vai sulla crescita personale vai a vedere che cosa ti richiama fortemente che cosa senti molto tuo cosa che ti chiama va bene questo è per te il consiglio stesa 3 va bene tutti quanti allora io qui allora le tre stese le togliamo rimaniamo in compagnia della nostra potentissima genesa mi raccomando voi se volete tutta la durata della fase di luna comunque crescente e vale ogni volta che c'è la luna crescente va bene come usarla andatelo a vedere in altri video lato quadrato lato triangolo già spiegato molto bene soprattutto nel video della attivazione ed uso della genese pentasfera gli ho dedicato proprio un video particolare e proprio dedicato a questo solamente che dirvi guardatevi altri video sul mio canale di argomenti diversi quello che vi può interessare io per oggi vi ringrazio mi raccomando fate buona pratica fate percorsi di crescita personale perché vedrete assolutamente il risultato è vero sì che è un lavoro un po lungo ma ne vale la pena ragazzi io vi ringrazio ancora di essere stati qui con me su quinta dimensione letture e vi aspetto presto in un prossimo video interattivo sul mio canale ciao a tutti